Musica Passiamo alla politica e continuiamo con la serie di servizi per presentare le proposte delle forze in campo nella circoscrizione nord-est per le elezioni europee. Presentiamo dunque il partito pirata che vede sullo sfondo l'attenzione per la rete e per il mondo digitale. Conosciamolo dunque con Lucio Bondi. Un movimento nato in internet e arrivato nei parlamenti di importanti paesi del continente. È il partito pirata che a queste elezioni europee in Italia corre per la prima volta da solo. Condivisione, trasparenza e innovazione sono le parole d'ordine del programma, spiega Stefania Calcagno, capolista della circoscrizione nord-est. Il partito pirata è l'unico partito che si presenta con un singolo programma in tutta Europa. 11 nazioni, un solo programma, condiviso per tutti. Nel programma si parla anche di tutela della privacy, soprattutto online, no alla nuova direttiva sul copyright e difesa dei diritti umani. Completano la piattaforma la tutela dell'ambiente, il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni politiche, la lotta all'evasione fiscale. Sullo sfondo l'attenzione per la rete e il mondo digitale. Software libero, open data, potenziamento della banda larga, libera circolazione della conoscenza e delle idee.